Perfetto, così. Oh, benissimo, ottimo. Voi in azienda non avete un simulatore di volo, vero? Nella formazione sicuramente una parte importante è la simulazione. Le persone imparano meglio quando fanno e la formazione sappiamo non essere solo fatta di teoria. In questo video vi introduco ad Elevate. Elevate è un software che vi permette di costruire una parte simulativa da aggiungere ai vostri corsi. Ecco un esempio. Questo è un esempio di un corso antincendio. Le storie interattive possono essere fatte da più scene e l'interazione dell'utente tra una scena e l'altra avviene tramite delle scelte. Ogni scelta porterà un ramo della storia diverso e quindi l'utente potrà completare obiettivi formativi diversi. Chiaramente l'obiettivo è far provare l'utente, farlo sbagliare e nell'errore imparare cosa invece è corretto fare. Il nostro corso antincendio è un corso antincendio.